Scorrendo le cifre sul numero di visitatori, per il Museo Civico di Sansepolcro giungono notizie non negative, anche se il flusso di visitatori si sta assestando su cifre inferiori all'anno della grande mostra pre-francescana, il 2007, con una tendenza al calo che si conferma nei primi mesi del 2009 e con una riduzione di visitatori anche rispetto ai primi sei mesi del 2008. Ma vediamo nello specifico tutti i numeri del Museo Civico. Da inizio anno fino a giugno al Civico hanno fatto visita a 13.966 visitatori, con una crescita fino a maggio, 929 a gennaio, 808 visitatori a febbraio, 2.054 a marzo, 3.697 aprile, 4.086 a maggio, con un calo a 2.392 presenze a giugno. Calo da collegare al tempo, a un maggio con tanto caldo infatti ha fatto da riscontro un mese di giugno di sola pioggia. Se la mostra del 2007 ha lasciato il record storico di visitatori superiori anche al 1992, anno del cinquecentenario della morte di Piero della Francesca, il 2008 e il 2009 stanno comunque facendo la loro parte. Le cifre parlano di un buon inizio, come nel 2008, che al 30 giugno aveva fatto registrare 15.623 visitatori, inferiori al 2006 che vide nei primi sei mesi 17.239 biglietti staccati. Ora si sfiora la soglia dei 14.000 visitatori, maggior parte turisti italiani, con puntate di giapponesi, inglesi e francesi. Adesso però gli occhi sono puntati sui mesi di luglio e agosto. Nel 2006 i visitatori erano stati 7.745, mentre nel 2008 6.850. C'è ad ogni modo la consapevolezza che il calo esiste un po' come in tutta Italia, rispecchiando l'andamento museale di gran parte del paese. Risultati ad ogni modo importanti per la città di Sansepolcro, che rimane sempre viva, andando a creare un percorso museale con altre realtà che fanno da degno contorno al civico. Il punto focale di quanto Sansepolcro offre ai turisti. Altro dato in positivo è senza dubbio la convenzione tra il Museo di Sansepolcro e il Museo della Diocesi di Città di Castello, che permette al visitatore una riduzione sul presto di ingresso dei due musei.